Amici e amiche di LegaNerd, bentornati, io sono Alessio e sono il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Allora, prima di tutto, come sempre, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche. Ma a bando alle ciance torniamo alla nostra scienza, perché oggi in 5 minuti racconteremo che cosa c'è sotto le profondità di Chernobyl. Non conoscere Chernobyl ovviamente è impossibile. 35 anni fa, in Ucraina, la centrale nucleare di Chernobyl fu protagonista di una drammatica esplosione, uno dei più grandi incidenti radioattivi della storia dell'umanità. Oggi, purtroppo, le sue macerie, a base di uranio, si stanno risvegliando e si notano le prime avvisaglie di reazione e di fissione. Ovviamente abbiamo visto tantissimi documentari su Chernobyl, una delle più grandi serie TV degli ultimi anni è diventata praticamente virale. Abbiamo letto libri, abbiamo letto articoli, ricordiamo anche di testimonianze, ovviamente sono 35 anni fa, quindi abbiamo tantissime testimonianze di tutto ciò che è stato il mondo Chernobyl e tutto quello che è stato scaturito appunto da quell'incidente. Chiaramente quando i dati diventano di nuovo un borderline, in quanto comunque c'è un'analisi continua della terra, di tutto ciò che vive intorno a Chernobyl, gli stanziati iniziano a mettersi in allarme. In questo caso si trovano in una sorta di bivio. Aspettare e sperare che la cosa si plachi da sé, oppure scendere di persona, tra virgolette di persona, costruendo una sorta di robot che possa insinuarsi nelle visce della terra, per trivellare la superficie di cemento per poi crearvi dentro delle capsule di boro. L'allarme quando è scaturito? È scaturito dal fatto che in una delle stanze sigillate stia subendo un lento, ma costante, aumento del numero di neutroni, cosa che scade in un grandissimo numero di dubbi, se non altro perché risulta estremamente difficile ipotizzare le cause di una simile variazione. Quindi come mai c'è stata questa variazione in questo periodo di anni? Come abbiamo ripetuto prima, l'analisi di tutta la terra intorno alla centrale di Chernobyl è sempre in continuo monitoraggio, però chiaramente in questo caso si inizia un po' a prendere qualche decisione. Non stiamo parlando di un qualcosa di insolito, perché anche negli anni 90 capitava ogni volta che si verificava una pioggia battente. Ricordiamo che l'acqua si infiltrava e causava delle reazioni che richiedevano altre reazioni immediate ed emergenziali. Solitamente veniva inviato uno stalker, tra virgolette, era uno scienziato che rischiava la pellaccia in prima linea. All'epoca non c'era la possibilità di mandare dei robot o mandare delle cose artificiali, quindi c'era il kamikaze di turno che doveva scendere e controllare tutto quanto. Oltre che controllare doveva riversare, quindi aveva proprio una missione a tutti gli effetti, doveva riversare una soluzione di nitrato di gadolinio il quale appunto assorbe tutti i neutroni. Tuttavia da allora tutti i sistemi sono stati aggiornati, tutto è stato chiuso ermeticamente, sono persino stati installati degli irrigatori della suddetta soluzione, almeno nelle aree raggiungibili, chiaramente per cercare di preservare quanti più scienziati possibili, o stalker in questo caso, si chiamavano appunto in questo modo. Ovviamente l'uranio in questione è ben seppellito nelle fondamenta e non si ha modo di esplorarlo. Nonostante si stia risvegliando, gli scienziati sono quasi abbastanza sicuri, nel mondo della scienza non si ha mai la certezza, finché non si hanno ovviamente delle analisi ben precise, che Chernobyl possa nuovamente farsi protagonista di un cataclisma dalla magnitudine di quello che lo aveva reso famoso. Ciò non di meno, gli scienziati ritengono sia assolutamente necessario mantenere la guardia alta e fare tutte le possibili analisi del caso. Tutta questa storia servirà anche per tutta la parte dedicata a Fukushima, per cercare di quantomeno arginare una problematica così importante quanto le conseguenze di un incidente nucleare così devastante. Quindi in chiusura di questa notizia, sapete che ci piace dare appunto anche le breaking news, perché comunque sono delle notizie molto importanti da fornirvi. Mettete un like qua sotto e condividete il nostro video e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!